Delitto Pansieri, altre confessioni di Alessandrini che rifiuta il rimpatrio Riaperta a strada Carloni, riparte a cantiere in via Fratti Domenica Monsignore Salvucci diventa Vescovo di Urbino Giovani in piazza per il clima con Fridays for Future Bambini pesaresi realizzano biblioteca San Giovanni in miniatura Una buona serata telespettatori di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, venerdì 3 marzo Che apriamo ancora una volta occupandoci degli ultimi sviluppi Per quello che riguarda l'uccisione delle 27enne pesarese Pierpaolo Pansieri Dalla Romania arrivano nuove confessioni da parte dell'arrestato Michael Alessandrini Vediamo In Romania, davanti alla procura di Timisoara, Michael Alessandrini ha di nuovo confessato l'omicidio del 27enne Pierpaolo Pansieri e ha anche esternato la volontà di non tornare in Italia nell'immediato A Pesaro si attendono le traduzioni di domande e risposte dell'interrogatorio effettuato dalla procura romena nell'ambito di un ordine di indagine europea ma emergono già due direttrici importanti La prima è che Alessandrini ribadirebbe di aver ucciso quello che fino a poche settimane fa era reputato un suo amico La seconda è che si sta opponendo per quanto possibile al rientro in Italia Estradizione che dunque potrebbe avere tempi più lunghi del lasso di tempo preventivato di un mese al fermo per omicidio volontario eseguito lo scorso 22 febbraio Tempi procedurali che però prevedono l'estradizione rimandabile al massimo fino al 10 aprile L'avvocato difensore Salvatore Asole si sta interfacciando in un non agevole dialogo con i legali romeni e nel frattempo ha inoltrato richiesta di perizia psichiatrica per Alessandrini Si aspetta anche l'ok per un viaggio in Romania per il primo faccia a faccia diretto con il proprio assistito Risulta invece ancora molto nebuloso il movente che possa aver portato al delitto e in tal senso si attende di capirne di più dalle traduzioni del secondo interrogatorio Intanto dopo due rinvii è stata fissata a martedì 7 marzo l'autopsia sul corpo di Pierpaolo Panzieri E continuiamo ancora a parlare di cronaca perché c'è stato un tentativo di evasione dalle carcere di Villa Fastigi A provare la fuga è stato un detenuto di origine gambiana di 27 anni affetto da gravi problemi di natura psichiatrica e arrestato per resistenza pubblico ufficiale, violazione delle leggi sugli stupefacenti e sulla detenzione di armi Ieri approfittando dell'ora d'aria il gambiano ha scavalcato un'inferiata ai lati con il chiaro intento di accedere nelle zone esterne delle carcere ed evadere Una fuga interrotta dal tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria che l'hanno ricondotto in camera di sicurezza L'episodio è arrivato dopo una lunga serie di atti vandalici delle detenute come danneggiamenti e incendi di mobili all'interno della propria cella I sindacati di polizia evidenziano come questo ennesimo episodio sia la dimostrazione del fallimento della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari E lasciamo la cronaca e passiamo ai temi della viabilità peserese Oggi è stata riaperta al traffico Strada Carloni che era chiusa da ben 4 mesi e mezzo Vediamo il servizio realizzato Era chiusa dal 14 ottobre a riaperto al traffico di auto, ciclomotore e furgoni questo pomeriggio Strada Carloni, futura circonvallazione di muraglia intitolata Enrico Berlinguer Torna a dare respiro al traffico cittadino che negli ultimi 4 mesi e mezzo si era caricato su assi stradali più prettamente residenziali I lavori di società autostrade hanno concluso oggi una prima fase di lavori ma continueranno la costruzione della bretella fino al completamento dell'8 di agosto ma senza inficiare sul traffico veicolare Data che da cronoprogramma dovrebbe contrassegnare la fine dei lavori e il completamento dell'interquartiere cittadina nelle sue asse più meridionale Un'opera strategica ma anche una riapertura odierna funzionale alla partenza di altri cantieri stradali messi nell'agenda comunale E' chiaramente questo lavoro molto importante che ci porterà in città circa 70 milioni di euro di lavoro che sono quelli complessivi che società autostrade realizzerà nella nostra città Questo lavoro ha avuto un leggero ritardo dovuto anche alle condizioni meteo che non sono state più favorevoli in questi mesi di gennaio e febbraio soprattutto Ci permette anche l'apertura di via Carloni e l'inizio dei lavori su via Fratti Lunedì 13 inizieremo il cantiere per la realizzazione della ciclabile di via Fratti Contemporaneamente andremo a chiudere per un paio di settimane la strada di case bruciate Sempre per lavori complementari per la realizzazione dei lavori di società autostrade E i lavori sul cavalcaferrovia che inizieranno presumibilmente a metà marzo Quindi è una città che si muove e una città che si muove con tanti cantieri può creare e causare anche alcuni disagi Per questi disagi che sono motivo alcune volte di critica Noi ovviamente amministrando la città ce la prendiamo però l'obiettivo finale è il bene comune Quindi al termine di tutte queste opere previste e attese da tanti anni diciamo che i benefici saranno importanti E domenica 5 marzo alle ore 17 a Palazzo Ducale di Urbino ci sarà l'insediamento di Monsignor Sandro Salvucci alla Diocesi di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado Si tratta di un appuntamento che chiude, non senza polemiche, la presenza di un arcivescovo esclusivo nella città di Urbino dopo che Monsignor Tani ha recentemente rimesso il mandato su indicazione pontificia Si chiude una storia milenaria per la Diocesi di Urbino e se ne apre un'altra inedita con un arcivescovo unico sia per Pesaro e Urbino Tenere alta l'attenzione sui cambiamenti climatici E' questo il senso dei Fridays for Future, i Venedì per il futuro delle clima che questa mattina hanno riunito giovanine 50 piazze italiane, compresa quella di Pesaro Città sempre meno vivibili, temperature sempre più estreme e ancora troppa poca sensibilità Questa mattina, venerdì 3 marzo, i giovani della città di Pesaro e di altre 50 città d'Italia sono scesi ancora una volta in piazza per provare ad assicurarsi un futuro degno dei loro sogni ma che sembra sempre più catastrofico Una manifestazione che ha l'obiettivo di protestare e chiedere al governo di rispettare gli accordi di Parigi sulle riduzioni delle emissioni di CO2 dei combustibili fossili L'inizio dei Fridays for Future, letteralmente venerdì per il futuro, parte nel 2017 da un'allora sconosciuta 15enne di Stoccolma, Greta Thunberg, poi diventata icona planetaria La sua protesta isolata che prevedeva di scioperare la scuola ogni venerdì diventa un movimento globale pacifista che ha come obiettivo quello di sensibilizzare ed essere ascoltati da tutti quegli adulti che sembrano non voler sentire Noi oggi ribadiamo quello che diciamo da tempo, da anni al nostro governo, noi chiediamo di investire sull'ambiente, sulla vita, sul nostro pianeta e non di investire sui combustibili fossili e sul modello economico che non funziona Lo chiediamo con forza da tempo in tutte le città d'Italia e in tutte le città del mondo Noi oggi saremo presenti contemporaneamente per fare chiedere questo ai governi italiani ma anche europei e mondiali L'obiettivo principale di queste manifestazioni e di ogni 3 marzo che negli ultimi anni ha accompagnato il percorso di tante studentesse e studenti è ribadire l'emergenza climatica Penso che le nuove generazioni stiano chiedendo forte ormai da anni la responsabilità di noi adulti nell'affrontare queste tematiche e nel prendere delle posizioni forti anche con delle azioni concrete Nel Comune di Pesaro già da tanti anni affrontiamo la crisi climatica con azioni sostenibili a partire dalle scuole con la promozione di menù che hanno un impatto quasi zero sull'ambiente e queste scelte vanno replicate anche nella nostra quotidianità L'esempio di oggi, la partecipazione intergenerazionale di scuola primaria anche di ragazzi molto più grandi è stato un momento di incontro e di formazione preziosa e queste occasioni, queste manifestazioni consentono anche questo Il movimento ambientalista è diventato un movimento di massa e la sensibilità è cambiata però purtroppo questa sensibilità sta cambiando le politiche in un modo molto lento e questa lentezza non possiamo permettercela quando il nostro pianeta e il nostro clima cambia così velocemente Le famiglie e le imprese dei comuni colpiti dall'alluvione delle 15 settembre potranno ricevere un contributo fino a 4.000 euro per le auto e i furgoni che hanno subito dei danni A giorni la Regione Marche pubblicherà infatti il bando con i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle famiglie e alle imprese per i danni subiti alle auto e ai mezzi di lavoro La Regione ha infatti stanziato 2 milioni e mezzo di euro con risorse proprie per poter erogare il contributo E il Comune di Fano ha approvato il progetto che riguarda due importanti interventi sull'impianto sportivo Zengarini La realizzazione di un nuovo impianto a tunnel per consentire lo svolgimento in condizioni climatiche avverse di ogni disciplina di atletica e di velocità Si prevede anche la ristrutturazione completa della pista di atletica leggera ad otto corsie rendendo la norma secondo quanto prescritto nel regolamento nazionale FIDAL L'intervento è di 3,2 milioni di euro di cui 2,5 milioni provenienti da un ebando ministeriale mentre 800.000 euro sono di finanza locale Ed ora parliamo di teatro con gli appuntamenti delle rassegne targate AMAT nella nostra provincia Questa sera alle ore 21 appuntamento al Teatro di Monbaroccio con i Diavoli Un monologo tragicomico tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Nori di e con Oscar Genovese per la regia di Giampiero Solari Oggi, domani e domenica Fano va invece in scena a Manola con Nancy Brilli e Chiara Noschese che interpretano due sorelle gemelline contrasto tra loro in un'opera scritta da Margaret Mazzantini per la regia di Leo Muscato A Pesaro continuano anche gli appuntamenti delle settimane rossignane e domenica alle 21 alla chiesa dell'Annunziata La viola di Anna Serova e Tango Sonos proporranno Tango all'opera un progetto che porterà a incontrare la tradizione dell'opera italiana con i ritmi delle tango nelle rivisitazioni di Roberto Molinelli E prosegue anche la stagione teatrale della piccola ribalta con un altro debutto Sabato 4 marzo alle ore 21 e domenica 5 marzo alle ore 17 uno spettacolo delle tutto inedito scritto e diretto da Maddalena Boiani ed Erika Vaccarini due giovani autrici esordienti che nella sede di Via dell'Acquedotto presenteranno il Fantasma e la Vela Nera spettacoli nei due atti di un dramma corale, emozionante e coinvolgente e l'Istituto Maestre Pie Venerini ha realizzato con i suoi piccoli alunni un modellino in escala della Biblioteca San Giovanni ora in mostra nello stesso edificio di Via Passeri La crescita culturale dei bambini attraverso libri e lettura è uno dei motivi per cui la scuola dell'infanzia Maestre Pie Venerini di Pesaro ha considerato la Biblioteca San Giovanni al centro del suo progetto Il tema di quest'anno del Venerini Day, giorno dedicato a Rosa Venerini religiosa e fondatrice dal 1685 di circa 40 scuole in Italia rivolte solamente all'educazione femminile era quello di riprodurre un luogo della propria città che potesse essere focale per lo sviluppo dei bambini Con materiali di riciclo e recupero come grucce o scatoline che contenevano i tamponi la scuola di Pesaro ha scelto di realizzare un modellino della Biblioteca San Giovanni in cui hanno preso parte una quindicina di bambini dai 3 ai 5 anni e i loro genitori una realtà che dal primo al 26 marzo è esposta all'interno della stessa Biblioteca di Via Passeri La Biblioteca San Giovanni perché era su invito della provincia per questo Venerini Day sono state date delle indicazioni per noi la Biblioteca San Giovanni è molto importante è un centro dove si favorisce la cultura, la fantasia è un punto di incontro per giovani ma anche per i più piccoli perché anche i nostri sono venuti varie volte a leggere e a visitare la biblioteca Plastica, sughero, cartone e legno questi alcuni dei materiali utilizzati da genitori, bambini e maestre per portare a termine dopo ore di lavoro e impegno questo modellino Il progetto aveva come punto focale proprio il riuso e il recupero dei materiali sia cartone per quanto riguarda la struttura dell'edificio principale appendiabiti, di vecchi appendiabiti per simulare le capriate della struttura della Biblioteca San Giovanni scatole varie, stoff, scampi ogni genitore si è prodigato a utilizzare a suo modo il materiale di recupero Un concorso al quale partecipano tutte le scuole che portano il nome di maestre P.E. Venerini che in tutta Italia se ne contano circa una quindicina La prima che fu fondata è quella di Viterbo, città natale di Rosa Venerini che rivolse il suo insegnamento solo alla parte debole della società di allora le donne Tra tante difficoltà riuscì in quest'intento anticipando i tempi e trovando nel Papa di allora il supporto della Chiesa Il legame con Pesaro dura da 270 anni ma solamente dal secondo dopoguerra l'insegnamento di questi istituti in Italia si allargò anche ai maschi Lei si è accorta diciamo delle ragazze di quello che in quel periodo mancava non potevano studiare perciò non sapevano né scrivere né leggere E' così che nel 1685 ha aperto la prima scuola pubblica femminile in Italia a Viterbo E come ben tutti sappiamo mercoledì 8 marzo è la festa della donna Nella prossima intervista e nel servizio realizzato vi suggeriamo una maniera molto gustosa di come trascorrere questa ricorrenza Mercoledì 8 marzo è la giornata dedicata alla festa della donna Tra i tanti modi di celebrare questa ricorrenza a Ristorante Piccolo Mondo Romano e Annalisa ci propongono una serata davvero speciale Sì, quest'anno proponiamo una serata diciamo a tema, in tema delle donne E quindi l'8 marzo che cade di mercoledì prossimo praticamente Consigliamo un menù fisso Un menù fisso composto da un antipasto Con un ventaglio di prosciutto stagionato E poi un frittatina con le erbe spontanee aromatiche E poi abbiamo un arancino di riso E un'insalatina tipo autunnale molto fresca fruttata In onore di queste donne proprio E poi un primo e passatello con la fonduta dei formaggi Sempre fatti in casa da noi e tartufo nero Poi di secondo sempre una composizione impiattato Maialino in algirarrosto in porchetta Con spezie praticamente E abbinato anche pollo alla griglia carboni vivi Con le patatine arrosto E poi alla fine per il dolce Un cuore di mimosa praticamente E con l'intrattenimento della serata Che ci vorrà anche un intrattenimento Per agliettare la serata Con un DJ set e intrattenitore E quindi speriamo che possa essere di bell'effetto Per i gentili ospiti Che da anni che insomma ci seguono E quindi ecco spero Ecco di ospitarvi nei migliori dei modi Grazie da parte mia Grazie anche da parte mia E allora appuntamento all'8 di marzo Con la festa della donna Come vi abbiamo mostrato in questo servizio Del ristorante Piccolo Mondo di Villa Grande di Monbaroccio E con questo ultimo servizio Si conclude questa nostra edizione di Rossini News Prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo Vi ricordiamo la programmazione per questa sera Alle ore 21 e 20 avremo uno speciale televisivo Dedicato a Dr Drink E vedremo la nostra Nicoletta Tagliabracci Intervistare il titolare di questo locale Una serata al Dr Drink L'abbiamo chiamato così E vedremo un po' di che cosa è andata In cerca a scoprire la nostra Nicoletta In questo speciale televisivo Che ricordo questa sera alle ore 21 e 20 Appuntamento come di consueto domani mattina Con la rassegna stampa delle sabato A condurre ci sarà il nostro Antonio Astuti Ricordiamo ore 7 e 20 in diretta sul canale 80 Saremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook Sulle sito, sulla nostra app Repliche ore 8 e 20, 12 e 30, 14 e 18 Ci proiettiamo anche leggermente più avanti Ovvero la serata di domenica Dove alle ore 21 vi riproporremo Il documentario Le stelle Continueranno a brillare La Pesaro negli anni 1935-1945 Un documentario sugli anni della seconda guerra mondiale Nella provincia appunto di Pesaro Urbino Domenica ore 21, lunedì 14 e 45 Mercoledì alle 22 Poi sabato prossimo alle ore 17 e 15 E termina qua questa nostra edizione di Rossini News Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia E vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti